Non fa passi indietro il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, lo screening scuole sicure, il terzo avviato dal comune dopo quelli di febbraio e marzo, continuerà anche la prossima settimana in tutti gli istituti superiori della città, che per il 50% di studenti sarà in didattica in presenza. I falsi positivi scovati gli scorsi giorni, che avevano sorpreso anche il personale scolastico e i genitori, non sembrano essere un problema per l'amministrazione comunale, decisa a proseguire con quell'operazione che lo stesso primo cittadino ad oggi ritiene essere la più sicura. Oltre 3.600 ragazzi già tamponati, 10 positivi e la prossima settimana, martedì, mercoledì, se non sbaglio, ci sarà il secondo turno alle scuole superiori. Una grande operazione di massa che ci fa dire che oggi Pesaro ci sono le scuole più sicure d'Italia, ovviamente la sicurezza totale non ci può essere, ma aver controllato tutti questi ragazzi per noi è un grandissimo risultato e invito anche la prossima settimana ad aderire. E poi i positivi ci dimostrano che tutto sommato la scuola è un luogo sicuro, anche se non avessimo individuato quei 10 positivi, probabilmente sarebbero diventati 100, forse di più, quindi dimostra l'efficacia di questo strumento. Del resto non abbiamo alternative, i ragazzi non verranno vaccinati prima della fine dell'anno scolastico, alcuni non verranno vaccinati affatto. Se vogliamo, come anche ieri il Governo ha dichiarato, garantire la scuola in presenza il più possibile fino alla fine dell'anno scolastico, c'è solo uno strumento per poterlo fare, quello di controllarli con screening il più possibile periodici. Non ci aspettavamo che l'Asur ci mettesse tutto questo tempo per darci l'esito dei molecolari. Ogni screening con i tamponi veloci ha bisogno della conferma del molecolare. Quando abbiamo visto nelle scuole medie che passavano 4 a volte 5 giorni abbiamo cambiato strada, del resto ormai paghiamo tutto noi, paghiamo i tamponi, paghiamo i medici, paghiamo gli infermieri, Mila giustamente dice andiamo a un laboratorio privato e paghiamo anche il molecolare. E adesso dalle scuole superiori il molecolare arriva in 24 ore e quindi un positivo del tampone veloce viene subito nell'arco di 24 ore la risposta con il molecolare. Nel frattempo il Comune lancia anche il bonus palestra per aiutare concretamente una delle realtà più colpite dalla pandemia a patto che abbiano la propria sede operativa a Pesaro. Abbiamo deciso con Mila di fare un'azione specifica sulle palestre, fino a 1.500 euro a palestra a fondo perduto e fino a 1.500 euro a palestra per le spese che servono a riaprire in sicurezza, sanificatori, gel, termoscanner, tamponi che vogliono utilizzare per i propri clienti o per i propri lavoratori. Il contributo andrà in base alla grandezza della palestra perché ci immaginiamo che più è grande la palestra più sono le spese, non solo palestre ma anche scuole di danza, corsi di yoga, tutte quelle attività personal, tutte quelle attività che sono state chiuse per tanti mesi e che spero da maggio possano riaprire anche indoor e non solo all'esterno. Il bando sarà caricato nell'albopretorio del sito del Comune mercoledì 21 aprile e le domande dovranno essere presentate a partire da quella data entro le 12 del 28 aprile inviando una mail a comune.pesaro.chiocciolaemarche.it I contributi saranno due, uno fino a 1.500 euro a fondo perduto e quell'altro sempre di 1.500 euro per tutte quelle che sono le spese sanitarie, dp, tutto quello che serve per adeguare la palestra o il centro personal in sicurezza. Si potranno rendicontare anche le spese già sostenute perché ricordo che già a settembre molte realtà si sono dovute adeguare e quindi è giusto riconoscere anche quelle spese che erano già state sostenute da tutte le attività. E poi anche quest'anno il Comune rimetterà a disposizione delle palestre gli spazi verdi per fare attività fisica all'aperto.